E' uno degli interventi di riqualificazione più importanti ma realizzato dal periodo della cassa del mezzogiorno nella zona industriale di Salerno che deve diventare un grande giardino di sviluppo capace di attrarre investimenti garantendo lavoro e sicurezza. E' stato presentato così il lavoro di riammodernamento che innanzitutto doterà di un impianto di videosorveglianza la zona industriale di Salerno che guarda anche allo sviluppo dell'aeroporto di Ponte Cagnano Faiano per attrarre nuovi capitali. L'aria come ha ricordato questa mattina il presidente del consorzio Asia Antonio Visconti è inserita nelle zone ZES ma intervenendo alla presentazione del progetto sia il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che lo stesso Visconti hanno annunciato l'impegno della regione per un programma di sburocratizzazione. Il 2020 doveva essere l'anno della svolta ma il covid non ha consentito alla regione Campania di portare a termine questa ipotesi ha ricordato il presidente De Luca che ha annunciato qui un'impresa dovrà impiegare un mese per aprire non anni. L'intervento nella zona industriale è anche di sicurezza ambientale perché saranno installate centraline di rilevazione ambientale e di monitoraggio delle emissioni in atmosfera al fine di migliorare l'esigenza di far coesistere e coabitare ambiti fortemente urbanizzati e zone di sviluppo. Sono qui non solo come presidente ma anche come imprenditore ha ricordato Andrea Prete il presidente della Camera di Commercio è uno degli interventi più significativi dalla ZES all'aeroporto. Questa è un'area che si trasforma in una zona appetibile per chi vuole investire. Il tema è anche legato all'aeroporto non dimentichiamo che avremo l'aeroporto io dico capisco quando uno dice avremo l'aeroporto a Salerno dice vabbè si è detto tante volte ma voglio dire sono fiducioso perché l'aeroporto oggi non è gestito da una piccola realtà ma è gestito da GESAC che ha dato come dire mostra di che cosa è capace nella crescita di Capodichino e il progetto prevede ovviamente che sia GESAC a gestire l'aeroporto di Salerno e quindi io penso che un'infrastruttura così importante che sarà di fatti a qualche chilometro da qui possa dare ulteriore sviluppo a quest'area perché potremmo avere insediamenti di attività che nasceranno intorno all'attività aeroportuale. Ed anche per il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli in questo modo si creano le condizioni per lo sviluppo e per dare una speranza di futuro. Parte di un ragionamento più complessivo sull'armatura urbana e urbanistica della città di Salerno. La zona industriale merita attenzione dal punto di vista della sicurezza e della funzionalità della predisposizione ad essere di nuovo particolarmente accattivante. Con questa iniziativa dell'Asi, ringrazio Antonio Bisconti, questa mattina partono lavori per 2 milioni di euro che metteranno in sicurezza dal punto di vista della videosorveglianza perché è una videosorveglianza evoluta con riconoscimento delle targhe e quant'altro, una zona che deve avere ulteriori interventi e ulteriori iniezioni di disponibilità. Infatti partiranno anche un corpo importante di armature viarie di strade che renderanno questa zona all'altezza di una zona industriale reale. Se a questo si uniscono i ragionamenti sulle ZES che vanno ripresi, l'intervento di Piero De Luca per quanto riguarda gli sgravi fiscali, insomma una serie di iniziative che rendono appetibili queste zone, considerato che a pochi metri c'è l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, credo che questo insieme di concause possa rendere questa zona particolarmente interessante per gli imprenditori.